Allora diciamo che è uno di quei viaggi che quando arrivi a casa hai bisogno di una vacanza Cazzo mamma devo capire che siamo E dai un attimo cazzo due secondi ti chiedo tutte e due Ah dimenticavo, grazie Awa per questo vestito africano che mi fa da tenda, spogliatoio, prendisole, pigiama Mi fa da tutto, vestito africano che ovviamente porterò con me in Africa Thank you Awa, grazie Dai, siamo in Africa We're on a different continent Non so perché Quanta fatica Però Un bel viaggio So far, so good Ciao 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 här